questo è caverna di platone questo è si è lui questo è caverna rewind come sempre sbustiamo sta roba va questo lo sento leggero questo lo sento leggero questo lo sento pesante qua ci sono i manga sicuramente ordinato tre giorni fa è ancora nulla è normale normale io la roba di lucca cioè la roba che è uscita a lucca mi è arrivata due settimane dopo c'è niente da fa purtroppo quando c'è la fiera di mezzo è un casino allora cartolina di yo chan in versione call of the night ormai io la chiamo call of the night questo perché palesemente un riferimento a un manga meraviglioso e due pacconi due bei pacconi di manga vorrei vorrei cominciare da questi più che altro perché trovo molto divertente questa cosa è uscito questo manga di dinit che mi interessava anche di maruei rokudai non so benissimo di cosa parla però è un manga di shueisha e viene pubblicato su ultra jump è un manga che mi è sembrato particolare perché ho visto poteri gente morta ammazzata tagliata in due solite cose no robe robe particolari ma soprattutto ho visto un contesto piuttosto realistico un contesto artico non saprei come altro definirlo perché li vedo tutti immersi nella neve e quindi c'è un po di vibes alla cosa di carpenter molto particolare comunque un manga di shueisha più che decente quindi ero curioso di leggerlo copertina come si chiama questo manga discommunication si sono persi una n gli amici e poi la cosa bella sapete qual è è che qua eh ma qua è fatto con un materiale di merda allora vediamo un po vediamo se va a fuoco ok qua sotto è scritto bene communication ok e qua invece si sono persi la n top in copertina fantastico sul dorso è scritto male uguale è scritto male anche sul dorso in quarta ricopertina è scritto bene perché è lo stesso file immagino sia proprio lo stesso usato qua anche qua e infatti c'è la n prezzo 12,90 classico prezzo di dinit voglio dire voglio dire perché perché non perché non vederli questi soldi di shun umezawa pinky suona sempre due volte nessuno impara a vivere prima ancora di nascere tutti impariamo vivendo pinky lacido si aggira nelle tenebre della città e si muove nei bassi fondi tra criminali e malavitosi il suo compito è risolvere problemi ma si trova spesso chissà perché ad aiutare povere donne in difficoltà capendo eccolo qua pinky lui è pinky questo qua anche qua comunque un po di violenza no assolutamente è solo violenza non so se c'è sesso non lo so mi pareva di no mi pareva che era tipo solo yakuza che poi quando sono così un volume unico io li leggo molto più volentieri mi sembra carino sembra carino ambientato a napoli ma assolutamente no è in giappone testa di cazzo folletto di due fantagenitori folletti numero 11 di ruroni kenshin eccolo qua nella sua edizione stratosferica perfect edition a un prezzo piuttosto ragionevole 9 euro prezzo abbastanza basso le 10 spade ci sono qua vediamo un po minchia che battaglie pazzesche ci sono mamma mia si recupera un personaggio proprio dalla prima saga qui ma finisce lo scontro qua no non finisce ma io è troppo bella kenshin ma koto shishio ti sto osservando non usare l'arte segreta bagliore del drago cavalca cielo mamma mia ragazzi l'autore è un pedofilo ma quanto cazzo è bravo mannaggia tutto ma perché è così un uomo di merda ma com'è possibile com'è possibile stu cazzi manga è troppo bello è lui che è un uomo di merda però il manga è troppo bello scindere sempre la persona dall'arte emanuele 84 grazie dell'abbonamento ma da non era uno degli assistenti di questo mangaka e ichiro oda e i royukitakei hanno lavorato insieme a kenshin sì sì troppo bello per me troppo lungo e beh sì effettivamente lunghetto io ricordo la prima edizione erano 27 volumi belli densi 27 volumi su assai però si faceva leggere cioè ragazzi ma con questi disegni cazzo ma si fa a leggere voglio dire lo dire dai non è pesante cioè questo comunque ha tenuto in piedi shonen jump eh voglio dire ragazzi cioè non è un manga di merda è uno dei manga che ha tenuto in piedi shonen jump cioè quando è finito dragon ball e slam dunk ma chi cazzo c'era nessuno c'era kenshin come si chiama il manga di prima pinky ho recuperato da poco un'intera edizione vecchia eh ci sta sì però sono i soldi che sono pochi se no anche 50 volumi e vabbè purtroppo bisogna scegliere bisogna scegliere però questi man questi manwa questi webtoon maledetti sono sempre pesantissimi ma quanto pesa questo crolla sul suo stesso peso queste pagine guarda tanto sono pesanti troppo il manga di kenshin quanti volumi sono boh non lo so quanti sono della perfect la vecchia edizione sono 27 e quindi quanti ne fanno qua 20 22 mi spiego meglio cave per me è tutto l'inizio un po' troppo annacquato quando si entra nel video delle fasi finali c'è il flashback che ho fatto a memoria dal passato e vabbè ma io ti capisco ma sono tutti manga così cioè tu mi dicessi ma è solo kenshin cazzo fra ma sono tutti manga tutti manga cominciano sempre che sono una storia poi all'improvviso quando fanno i soldi cambiano cioè diventa tutto un altro racconto ma perché è così cioè facci il callo sono poche le storie che non cambiano che hanno veramente una direttrice che è pure facile da seguire ma anche l'attacco dei giganti all'inizio ma si vede proprio che all'inizio c'è tutta una direzione sua e poi all'improvviso cambia perché i soldi arrivano eh che ci vuoi fare purtroppo però voglio dire io voglio dire ma che vuoi dire allora the boxer numero 5 di june jung attenzione quando arrivano i cazzotti qua ti fai male mamma mi adoro quando disegna l'impatto dei cazzotti che diventano sti cerchi che annichiliscono qualsiasi cosa cioè proprio l'impatto che arriva ed è un cerchio che distrugge tutto graficamente è proprio una cosa così facile da capire bellissimo c'è sembra una stronzata quanti artisti hanno fatto gli impatti che sono fatti a creste gli impatti che sono fatti a raggiera gli impatti che sono linee cinetiche ma quante ce ne stanno tanti artisti ne hanno fatti molti diversi no ognuno si inventa il suo ma lui che fa i cerchi a me piace un botto è immediato arriva subito sì è il colpo è questo è il cerchio è un webtoon sulla box si chiama the boxer siamo arrivati al quinto volume quindi diciamo ancora siamo nelle fasi iniziali stiamo cominciando a scoprire tutti i vari personaggi qui in copertina ci sta amsyok molto figo bello puzza sempre di inchiostro se proprio trattengono troppo l'inchiostro che si bisogna rieggiarli veramente comunque bello perché tutto a colori chiaramente i webtoon sono belli per questo però ragazzi mamma mia puzzano di morte andrebbero rieggiati o secondo me non regge il confronto con altri manga sulla box come a shitano joe ma nemmeno come agimeno hippo agimeno hippo è molto più bello da leggere però nella sua immediatezza questo webtoon nella sua scelta di sintesi grafica arriva e quando arriva ha fatto tutto bello editor io non so che disegnare fai i cerchi in che senso fai i cerchi carenza di sfondi mi per primo un po scelta stilistica no vabbè webtoon molto semplice molto scarno c'è da un punto di vista artistico non vale non vale niente rispetto ai manga voglio dire ragazzi non lasciatevi prendere dal mio entusiasmo perché mi piace la storia mi piace questa scelta ma se lo devo paragonare ad agimeno hippo perde proprio su tutti i fronti non ci sta una cosa in cui può vincere the boxer però come lettura prima lettura ai manga di box tipo lettura alternativa ai manga di box secondo me questo fa proprio il suo sporco dovere bello altre novità after god di sumi eno bello bella sta copertina è figo molto carina grazie alle crelisis dell'abbonamento ciao a penna purtroppo non riesco a seguire la live ma appena ho tempo a recupero il video sull'altro canale grazie emmanuel84 grazie all'abbonamento e grazie ancora del consiglio su IG a tokyo i luoghi dove risiedono i kami sono stati dichiarati danger zone la giovane waka sbircia all'interno di una di queste zone per ritrovare la sua amica scomparsa ma in lei alberga un qualcosa si tratta forse di un innesco verso la distruzione o di un'arma che potrà salvare il mondo e che cazzo ne so io bisogna leggere mamma mia ah bellissimo allora devo leggerlo tutto però già soltanto dalla prima pagina è un manga molto manieristico effettivamente tanto tanto ricco e denso guarda qua particolare molto particolare bisognerà vedere un po' tutto perché adesso sto sto leggendo così di fretta vedo un po' il facing ma mi sembra comunque qualcosa che si fa leggere bene ho capito ho capito più o meno qual è il racconto c'è sempre una fissazione sugli occhi comunque vedo gente con le bende gente con gli occhiali i poteri che appaiono negli occhi ok allora c'è un contrasto particolare perché alcuni sfondi e determinate illustrazioni come quella che vi ho fatto vedere prima sono estremamente pulite molto pulite invece i personaggi sono tutti un po' realizzati con una serie di tratti sovrapposti uno sull'altro sono tutti un po' sporchi questo è interessante sono arrivate le storie di keigo shinzo moriyamatsu driving school e typhoon day eccoli qua allora typhoon day sono sette storie dall'esordio del 2008 al 2012 con il tocco unico e inconfondibile dell'autore di tokyo alien bros bello io vi ricordo ho avuto la possibilità la fortuna di incontrare keigo shinzo di fargli un'intervista chiacchierare con lui altro intervista che poi uscirà sul canale la vedrete molto molto bello è un grande veramente è un attento osservatore è una persona che di suo non parla molto ma è un attento osservatore molto carino questo qua c'è kirio guardate kirio bello e qui invece ho preso gran terror di kanako inuki regina del manga horror finora non è stato pubblicato niente di suo però io già sfogliando riesco a vedere che è una fan di kazuo umezu a tutta forza allora vorrei capire queste storie dove sono state pubblicate perché 2017 da kodansha bisognerebbe vedere dove la pubblicate sono curioso perché di solito queste storie o sono seinen o sono shojo comunque vedo le influenze di umezu tutte presenti qua eh alla grande umezu a tutta forza sì questa è orochi è praticamente orochi solo che qua e là ci sono non so ci sono degli elementi che mi fanno pensare alla parodia sì mi fanno pensare alla parodia però mi fanno pensare anche allo shojo va bene ah dai questo 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 è umezu sì di quando esce fuori il il megafono al che cos'è alla bambina esce fuori il megafono dal petto è proprio umezu a me ricorda nishio yagyo dai no 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 questo è tutto umezu e anche il racconto femminile anche gli elementi femminili sono sono tipici di umezu anche perché lui ha cominciato sulle riviste shojo e quindi sto cercando di capire sta cosa però se non vedo dove è stato pubblicato capisco il cazzo voglio dire poi manga che hanno a che fare con l'occidente sono arrivati i volume 2 di tutte le serie della DC Comics superman vs food numero 2 batman justice buster numero 2 e joker one operation numero 2 bellissima sta copertina superdivertente per qualche motivo batman è stato trasformato in un neonato il joker deve prendersi cura di lui perché perché altrimenti insomma si perde tutto il divertimento ed è una roba super assurda poi nel frattempo mentre vive questa avventura lo porta anche all'asilo cose cose assurde tra l'altro lui cambia come come design cioè loro sembrano un po all'inizio della storia sembrano un po le versioni cinematografiche di batman e joker un miscuglio di versioni cinematografiche però mentre la storia prosegue joker diciamo che in qualche modo rivive o cita omaggia altri momenti della sua storia editoriale questa una vignetta palesemente presa da the killing joke infatti anche prima era con con il cappello attesa larga tipico di the killing joke molto molto divertente si sia un joker babysitter batman justice buster invece è un elseworld molto particolare con anche dei bei disegni secondo me e sono piuttosto diversi dal solito perché per esempio one operation joker è un manga gag principalmente questo invece un manga piuttosto serio e ha un tratto un po più nervoso e anche un paneling diverso dai soliti manga cerca di cerca di somigliare un po al paneling americano e principalmente vediamo anche delle vignette molto verticali che di solito nei manga non si usano perché è molto difficile poi per via del loro sistema di lettura fare dei panel così lunghi a meno che non fai solo le immagini poi è difficile anche far parlare i personaggi perché fai da destra a sinistra poi scendi giù poi devi risalire destra a sinistra è un po complicato per lo è un po più complicato per loro rispetto che per noi ma infatti c'è vedete ovunque è pieno di vignette lunghe è molto verticale questo manga è un esperimento interessante alla fine cioè questo tipo di paneling si ripete spesso verticale e poi vignette sfalsate è una reinterpretazione high tech di batman con un robin è sostanzialmente un programma è un computer robin non è il suo assistente il ragazzo meraviglia è un è come jarvis fa così ci capiamo meglio è divertente molto figo e qui invece c'è superman versus food anche questo è un manga gag dove superman va in giro per il giappone a mangiare cibo e a postarlo sui social puoi far vedere la copertina per favore andate in cucina non ho visto questa è la copertina di batman justice buster eccolo qua super serio questo invece superman versus food numero due con copertina che fa anche una citazione al che cos'era secondo o terzo film di superman dove lui gira intorno al mondo per per invertire la rotazione della terra e riavvolgere il tempo non mi ricordo quale dei due micciolo grazie del ride comunque questo è tutto divertente ma anche lo stile primo film primo film addirittura pensavo fosse il secondo il terzo anche dallo stile si capisce che è un manga molto divertente c'è lui che fa ste facce tutto godurioso quando manda giù yudon guarda qua si siamo che belli yudon buona mangiare proprio superman che gode ogni volta che mangia il cibo giapponese vabbè classica marchettona giapponese per dire noi siamo i meglio superman è un po incazzato parlano male di lui sui giornali ha assunto un look oscuro sarà passato al lato oscuro non credo ma tanto comunque nonostante è un po ritroso va sempre a mangiare il cibo giapponese come un pazzo come buono il ponce e qui invece c'è star wars visions quindi possiamo dalla dc comics alla disney con star wars adattamento manga della serie animata che potete vedere su disney plus non non so se hanno adattato tutti gli episodi o diciamo i più famosi ok il vecchio l'oppe ocio il nonno jedi e i gemelli ma ci stanno artisti niente male aruichi kamoma shirama why you top questo chi l'ha fatto invece yusuke osawa è lui pure abbastanza famoso e kesuke sato invece ha fatto i gemelli e ci sta c'è un buon tratto che sembra sembra quello di studio trigger ok cioè diciamo che le versioni manga di quelle storie somigliano abbastanza alle controparti animate bello bello eccola qua kamoma shirama non so se ha fatto qualcosa di eclettico come di solito fa lei eh vediamo si è mantenuta abbastanza rigida eh sì diciamo che se uno si aspetta di vedere le cose di witch at atelier non le trova qua dentro però trova il suo segno sempre riconoscibile secondo me questo di aruichi è tanta roba a sfogliarlo già mi piace un botto bello con questa furri eh coniglietta eh poi aruichi fa fa questo che mi piace tantissimo ecco qua lo scambio di battute tipico che nel montaggio di una serie tv lo fai così campo e contro campo lei lo spara come vignette però funziona nonostante sia ripetitivo c'è un overlapping di vignette una sopra l'altra che funziona e poi a questo cioè secondo me ricorda più questo kamoma shirama che il manga che ha fatto lei questa serie di eh dettaglio eh reazione altro dettaglio poi si allarga tantissimo l'inquadratura da acqua acqua boom e vediamo cosa sta succedendo bellissimo cioè c'è un bel paneling il monologo della speziale ti piace moltissimo occhio bambina allarme cassazione la cassazione non fa legge e me ne frega un cazzo oh furri con la spada laser è finita è finita bello poi passiamo agli altri manga arrivato Shangri-La Frontier volume 11 e volume 11 con l'expansion pass poi lo dovrò aprire Jojo Crazy Diamonds Demonic Heartbreak viaggio dimensionale viaggio nel tempo con Josuke e Olores è un manga un po' più maturo di Jojo in questo non voglio dire che le altre serie non siano mature che sono proprio deficienti le altre serie questo è un po' più serio diciamo un approccio sul tema di Jojo che un ragazzo più grande può leggere senza cringiare troppo ecco diciamo ve lo consiglio così non lo sto guardando l'anime del monologo della speziale basta non mi posso mettere a leggere in live Yomi no Tsugai numero 3 di cui avevo già preso il 3 però early access variant questa invece è l'edizione regular Smile Done Runway numero 17 Jumbo Max numero 5 top manga questo veramente fuori fuori di testa spaccio illegale di Chalice non sto scherzando spaccio illegale di Viagra questo è quello che fanno in questo manga follia follia pillole per farsi venire duro il cazzo partendo da qui ma che cazzo io devo fare è Breaking Bad con le pillole per le erezioni ragazzi letteralmente finché morte non ci separi il mio manga preferito di Tarono Gizaka numero 7 questo come sempre ve lo straconsiglio se vi piacciono le storie di serial killer se vi piace come si chiama quella che fa i podcast quella che fa i podcast che racconta sempre che si ammazza la gente mi ricordo come si chiama Elisa true crime Elisa true crime se vi piace Elisa true crime leggi finché è morte non ci separi ma è regolare proprio devi fare il collegamento immediato che merda il crime ammazzati così diventi un caso di crime poi è arrivato cura numero tre è la fine questo di no boru rocuda cura fine ok va bene assurdo è la storia fermi è fermi e se ve lo dico così non capite secondo me non capite a prescindere però c'è in qualche modo lo devo spiegare è la storia di Dracula che deve affrontare il divorzio da sua moglie che si porta via il figlio mentre lui è un giocatore professionista di baseball no boru rocuda sempre il migliore tre volumetti sì sì tre volumetti si fa straleggere perché no boru rocuda è un maestro del fumetto giapponese poi ha st'idea veramente che Dracula si sposa fa un figlio e poi un giocatore professionista di baseball boh senza senso sta roba e ha unito tante cose giapponesi con questo mostro classico che funziona sempre bene poi il figlio pure c'ha dei problemi perché sta diventando un mezzo vampiro un casino e poi il divorzio cioè è una storia che mette in scena tutta una serie di problematiche totalmente umane che dovrebbero essere lontane da quelle di una creatura immortale così al di sopra delle parti però però bello bello ma c'ha dei bei disegni sì chiaramente l'autore di dash cappè if motori in pista tanti altri manga molto molto carini quindi ci sa bella scena questa e poi è arrivato anche choujin x stupenda questa copertina veramente sui shida solo tokyo goal mi fa veramente cagare però qualsiasi altra cosa che lui fa a livello di disegno anche come manga choujin x mi piace un botto tokyo goal mi fa veramente cagare proprio impossibile leggerlo ma diciamo la sintesi che ha adesso la trovo veramente perfetta mi piace tanto ma secondo me è un po come in io asano le prime opere sono sono quelle che ti portano al successo sono incredibili bla 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 sono super edgy sono abbastanza pure una stronzata perché altrimenti non sarebbero così famose cioè ragazzi diciamoci la verità per essere molto famose perché devono piacere veramente a tutti e se piacciono veramente a tutti come fanno ad essere così uniche non lo sono palesemente invece choujin x siccome non è quella cosa che veramente piace a tutti sento che c'è sento che c'è di più c'è qualcosa di più vero poi pure fa sti mostri incredibili guarda questo va bellissimo potente allora facciamo la solita lista anche se devo vedere cosa c'è qua dentro non so cosa c'è quindi magari la lista la rimandiamo a dopo finisco di aprire gli scatoli anzi rimandiamo un paio di palle cominciamo già a mettere da parte quello che secondo me deve consigliare e poi si vede anche perché questo pacco lo vedo un po più pesante non capisco se c'è soltanto una figur mi sembra troppo c'è solo una figur ciao benny 8122 grazie l'abbonamento e infatti ah le figure sono qua e cosa c'è qua casino eh no allora aspettate bisogna un capire qua se no io questo volevo vedere più degli altri allora fuori ah è giusto giusto poi questo è un puzzo d'inchiostro che non puzza troppo ok godo però mi sa mi sa che io non potrò sostituire questo libro mi sa dopo facciamo un controllo facciamo un confronto incrociato ecco io aspettavo questo eccolo di keigo shinzo senti my reaction 2017 2021 quindi dovrebbero essere storie brevi continui i racconti repartor guerra nell'izagaia tutto su casa shimizu togliere le imbrosse a posteriori volevo essere taiyo matsumoto ma un bazzuto quella volta che mi hanno ricoverato per un linfonoma fantastico ma questi sono tutti i racconti suoi cioè non sono manga inventati c'è proprio la mia vita le cose che ti voglio raccontare parafrasi momenti personali raccolti qua dentro ma volevo essere taiyo matsumoto un bazzuto bello questo è quello che volevo leggere di tutti e tre i volumi questo è quello che volevo leggere di più dai sono contento che sia arrivato pensavo non fosse arrivato per qualche motivo ah ecco ecco c'è tutta la sua storia di lui all'ospedale e poi lui che alla fine scrive la storia che sto facendo il manga che sto facendo si chiama hira yasumi si è deciso che il manga disegnato in ospedale sarebbe diventata la mia serie successiva che poi è quella pubblicata da jpop un filo che collega questo volume di init con jpop cominci da qua e poi ti sposti sui hira yasumi fra l'altro il primo volume è veramente molto delicato quante ore hai al giorno per leggere? di solito la mattina 4-5 ore la mattina ma non leggo tutto eh cioè leggo le cose che mi interessano di più principalmente i volumi unici le serie faccio accumulare un po' jpop svidita addinit godo nooo sfilata addinit nooo non gliel'ha sfilata credo che si gliel'ha sfilata palesemente e qua dentro quel cazzo c'è ho preso un'altra cosa che non mi ricordo palese che non mi ricordi altrimenti insomma saprei cos'è poi ordino tanta di quella roba che mi dimentico mi sono ricordato cos'è vabbè eh mi ricordo che posso fare allora è arrivato anche l'arte di giungito twisted e questo a prescindere lo consiglierei perché dentro naturalmente c'ha tutto un sacco di illustrazioni meravigliose del maestro va qua a colori bianco e nero soichi dissolving bellissimo dove sta quella? eh queste sono realizzate su una carta su una carta diversa vedete leggermente eh riflettente è è un pantone grigio molto particolare ma non è come quello giapponese vedete fra l'altro dove ce l'ho? se ce l'ho tata questo è quello giapponese allora già già partiamo dal presupposto che quello giapponese è più grande ecco c'ha un paio di a occhio un centimetro buono e qualcosa in larghezza è un paio di centimetri in altezza ma soprattutto ragazzi perché io mi ricordo perché quando lo vedo mi rendo conto è diverso soprattutto la carta utilizzata è molto simile è molto simile però cioè queste pagine con il pantone grigio in giapponese sono diverse cioè nel volume giapponese hanno forse è proprio il colore che è diverso cioè guarda quanto riflette ok allora questo è quello giapponese vediamo quanto riflette qua diretto con la luce sembra quasi bianco voglio cercare di imprimere questa immagine il più possibile sulla retina così appena apro l'altro me ne accorgo eh già qua invece la luce è più uniforme eh me ne sono accorto subito no qua la luce è completamente uniforme eh invece qui no qui non succede perché perché la trama della carta e il tipo di pantone vedi che cosa fa creano questo effetto che soltanto quando la luce è proprio diretta sopra ehm la riflette invece quello tutta la pagina prendeva tutta la luce possibile dalla lampada la rifletteva tutta quanta eh questo invece c'ha un effetto metallizzato che è impossibile da riprodurre ma io lo sapevo perché spesso che cosa succede che alcune vernici che alcuni ehm ehm alcuni pigmenti come questi per esempio a volte non si possono utilizzare perché per la comunità europea sono tossici e quindi non si usano e quando poi rifanno ecco le stesse cose dal Giappone in Italia me ne accorgo perché cambia sensibilmente tutto a parte che il libro è veramente molto duro da sfogliare quello italiano però vabbè non è un grande demerito bellissima questa illustrazione di HP Howard Phillip come stai? steso sta come deve stare? steso come deve stare? che poi lui dice no no ma io mi sono ispirato ad altre cose all'arte jomon giapponese si si a capocchio si chiama la maschera di Innsmouth quella a cui ti sei ispirato allora i consigliatissimi manga io di questa settimana numero uno di Jojo Crazy Diamonds Demonic Heartbreak storia di viaggi nel tempo e nello spazio tra Josuke Higashikata e All Hors super divertente approccio più maturo a Jojo adatto ai lettori più smaliziati Star Wars Visions grandi maestri del manga che si uniscono per raccontare quattro storie tratte dalla serie animata Visions di Star Wars che trovate su Disney Plus alcuni racconti sono visivamente più riusciti altri meno come reinterpretazioni e in ogni caso consiglio di guardare la serie televisiva sempre però anche questo volume unico da tenere a casa è bello da leggere After God con molto 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 manierismo da un punto di vista del disegno super interessante storia con delle divinità che pervadono il corpo delle persone le dominano la protagonista sembra quasi posseduta come se fosse l'esorcista con trasformazioni superpoteri e tanto body horror poteri negli occhi che ci riporta un po' a tutto il racconto giapponese pop moderno partendo dalle luche arrivando fino a naruto insomma comunque intrigante come primo volume grand terror volume unico di kanako inuki regina del manga horror con sei racconti selezionati dall'autrice stessa in questo volume della collana showcase di dinit racconti esplicitamente ispirati all'altro grande maestro è l'horror kazuo mezu c'è qualcosa che richiama un po' oroci horror theater baptism pure quindi se vi è piaciuto kazuo mezu recuperate grand terror keiko shinzo si racconta all'interno di questa raccolta di storie che si chiama sentimental reaction che include delle storie brevi realizzate tra il 2017 e il 2021 fra cui anche la toccante autobiografia di un momento particolare della sua vita quando ha avuto un tumore ed è stato ricoverato in ospedale da cui poi nascerà il manga irayasumi molto interessante se volete avere una specie di retrospettiva sull'autore anche se è un po' una biografia un po' un'autobiografia e un po' non lo è perché racconta comunque delle storie qua e là inventate e poi art book di jpop twisted visions l'arte di giungito questo bel volumone di grande formato dal prezzo di 25 euro che può essere pure un'idea per fare un regalo ad un amico che magari non ha mai letto giungito e può scoprire il mondo dell'orrore del maestro che ha saputo inquietare tanti lettori in tutti questi anni di carriera all'interno ci sono illustrazioni che vengono da 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 soichiro tomie dissolving classroom illustrazioni create appositamente illustrazioni sui suoi gatti e altre molto più molto più comiche altre più inquietanti citazioni all'allcraft insomma un bel un bel libro da regalarsi o da regalare se vi piace l'horror eppure io penso che la tipa in copertina sia shinzo bello una figata questi erano i manga e i volumi consigliatissimi di manga yo one week later ricky dark ciao caperna hai letto zetman come l'hai trovato sto cercando dappertutto senza risultati allora zetman è bellissimo se solo fosse finito tenga la list comunque bello zetman uè bellissimo so già che cos'è allora pacco di manga yo aperto andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questo paccon di questo bel paccon togliamo la carta togliamo queste bustine qua questo lo metto qua metto qua pacco rito pacco ricco mi ci ficco vediamo cosa c'è oh finalmente questa è tutta roba vecchia che doveva già arrivare e che sta arrivando solo ora le christmas variant le christmas variant non ci avrei mai creduto che qualcuno riuscisse a portare questo manga in italia assurdo manca solo i meno spia guarda poi come è possibile il mio editore meno preferito è quello che porta sempre i fumetti che mi piacciono di più è così o no pure per voi ragazzi ditemi la verità vi capita che leggete in scan un manga e dite che bello se venisse portato in italia puntualmente lo porta quell'editore che vi fa dire mannaggia maron proprio quello proprio quell'editore proprio lui io non ho editori preferiti odio tutti è legale leggere scan acquisti da manga ragazzi sono arrivati gli acquistini da manga allora è arrivato di kenta shinoara volume 4 di witch watch super divertente con qualche momento fanservice belle battaglie personaggi molto comici dall'autore di scat dance però questo è sempre sul sul versante scolastico con protagonista strega con i superpoteri aiutata dal suo compagnuccio superforte fortissimo incredibile eccolo qua lui potentissimo e si chiamano un sacco di mazzate oltre le mazzate sono anche i poteri magici è molto divertente è arrivato il numero 3 di rave the groove adventure di hero mashima il più potente dei potenti in assoluto veramente fortissimo nostro padre hero mashima il più forte e quella un piedino ce lo buttava sempre adesso è una costante dopo rave c'è one piece eccolo qua volume 106 siamo nell'arco di egghead bellissima sta copertina questi capitoli veramente li ho letti tipo un anno fa eh sì bello bello bellissimo shaman king superstar numero 3 maro oversoul lucifer stupendo e numero 1 di i am in love with villainess nuovissimo manga di questo c'è anche un anime sono sbaglio oh beh oh ma ma ci sono delle cose capiamo interessante nell'universo del gioco il mio personaggio preferito è miss claire la perfida antagonista pagina colori e pagine sotto la doccia interessante allora vediamo un po' l'impiegata rei ohashi si reincarna nel mondo di revolution il suo adorato otome game nei panni dell'eroina rei taylor rei si reincarna in rei ok il suo personaggio preferito però non è uno degli affascinanti principi che compaiono nel gioco bensì claire francois la cattiva della storia riuscirà rei accanita giocatrice nella sua vita precedente a usare tutte le sue conoscenze e il suo amore per avvicinarsi a claire questo è solo l'inizio di una turbolenta commedia fantasy romantica include anche un breve racconto di inori che è l'autore della storia ecco qua il racconto interessante questo c'è l'anime sì per panini invece è arrivato il quarto volume di yasha bellissimo magus of the library volume 7 mamma mia questo esce un volume all'anno praticamente però però che bello questo è uno di quei manga che leggo solo io però vabbè volume 15 di tracce di sangue però si deve vedere la sua copertina grazie bobfire dell'abbonamento bellissimo tremendo aiuto tremendo tremendo a parte che questi questi volumi te li bevi veramente in un sorso si leggono velocissimi però maronna santa smetti di leggere vabbè come devo fare che faccio non mi piacciono i manga che cazzo devo fare non li devo leggere andate a fare in culo impossibile leggere vabbè the witch and the beast numero 6 tanta roba e questi erano quelli di panini poi jpop solo la nave di teseo ecco qua il volume 7 dei nostri cari carissimi amici di ikari arrivano sabu e ichi numero 1 di shotaro ishinomori questo è il manga sulle memorie di due detective dell'epoca edo ma no bellissimo ishinomori mamma mia incredibile troppo forte e arriva di kia asamiya that's my space opera nuovissimo manga di kia asamiya che ha trovato una sintesi grafica tutta nuova e ha anche un desiderio di raccontare una storia fantascientifica un po' diversa dal solito concentrandosi su questa ragazza che vive nello spazio insieme al suo cagnolino parlante che affronta delle avventure interstellari oltre questo è arrivato un manga che io mai avrei pensato sarebbe riuscito ad arrivare in Italia dopo tutto sto tempo effettivamente ancora nessuno lo aveva annunciato e mi dispiaceva insomma e invece invece il manga è stato pubblicato è un manga horror splatter che si chiama pumpkin night eccolo qua questo è bellissimo se mi piacciono le storie violente gente che t'ammazza botta trappertutto follia questa arriva con la zucca in testa sembra jack o lantern qua quando piglia questa specie di cucchiaio questa specie di mazza cucchiaio bom tira via proprio un'intera porzione della faccia pazzesca bazzut bazzut bello si 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 è un po' è un po' uno splatter invece 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 degli amici di toshokan sono arrivati yan numero 4 di 6 se non sbaglio questa è una bella avventura a boi ama siamo pazzi questo è praticamente questo è letteralmente il cattivo del film di cobra letteralmente il cattivo del film di cobra va bene il numero 2 della monella cie questo è caposaldo del fumetto giapponese tutte avventure comiche esilaranti robe che succedono nella vita di cie a scuola a casa per strada succedono tutti fatti strani e volume gigante mayfly island questo è tutto a colori bellissimo in un mondo post apocalittico sopravvive fra realtà e leggenda un luogo incontaminato l'isola di mayfly oscura minaccia o preziosa speranza per l'umanità mistero monella cie vorrei prenderlo mi ferma solo la quantità di volumi vabbè Sara ma che ti frega se saranno veramente 67 ci arriverai quando ci arriverai cioè non ci arrivi adesso a 67 volumi per il momento ne sono usciti due che poi vista la quantità di pagine io credo sia una due in uno questa quindi dovrebbe essere una trentina di volumi no? comunque che stavamo dicendo si monella cie tanta roba voglio vedere i poster sotto i volumi di toshokan allora vabbè poster interno del volume 4 di yan tanta roba dacci gli occhi gli occhi dacci gli occhi è che siamo agli Arnam la monella cie invece bello bisognerebbe comprarli tutti due per per poi mettere le sovracopertine tipo da qualche parte il Mayfly Island vediamo ah bello bello però non lo so non lo so secondo voi toshokan ha fatto uscire titoli interessanti è vero ma infatti io li ho presi tutti praticamente tutti i titoli di toshokan presi poi cos'altro era arrivato il monologo della speciale volume 3 questo è il romanzo con Mao Mao finchia ma è piccolissimo cioè è veramente formato minuscoloso minuscolo 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 vabbè ci sta anche in giappone sono così piccoli poi è arrivato il top del top ragazzi tamagotchi di chopper bonitoni cioppa eccolo qua spero che le batterie sue interne durino altrimenti insomma ne comprerò altre le variant di natale le apro a natale le conservo allora ragazzi i consigliatissimi di questa settimana che poi in realtà è quella di settimana scorsa perché gli arrivi di mangaio sono arrivati oggi sono arrivati un po' in ritardo causa mille fiere mille problemi sono due serie e un volume unico la prima è pubblicata da star comics i'm in love with villaness storia di inori disegni di ao onishimo character design di hanagata è un isekai all'interno di un mondo da videogioco da incontri all'interno dei videogiochi la protagonista invece di cercare di fidanzarsi con uno dei vari personaggi maschili vuole fidanzarsi con la cattiva del gioco e quindi cercherà in qualche modo di sedurla con le sue capacità con le sue arti il disegno è molto piacevole qua e là c'è un po' di fanservice è una storia piuttosto interessante diciamo una variante sui generis degli isekai ma non solo anche dei giochi di incontri molto molto particolare poi seconda serie consigliata invece di ikari eccolo qua pumpkin knight è una storia di vendetta una storia dove una persona con una zucca in testa comincia a vendicarsi di ciò che hanno fatto delle persone in passato è uno splatter molto violento con delle scene davvero intense coltelli che pugnalano persone in ogni angolo del corpo violenze fisiche molto molto presenti botte dappertutto è una specie di revenge movie splatter dal disegno molto pulito perché uno potrebbe pensare visto il genere che ci sia un disegno sporco invece il disegno è davvero fatto in maniera molto molto pulita precisa e chiaramente se vi piace il genere splatter non potete perderlo assolutamente da recuperare questo è è un instant cult giapponese che ora finalmente viene pubblicato anche in italia invece l'ultimo consigliatissimo di questa settimana è un volume di toshokan con storia di shang chao li e disegni di evergreen ye ed è mayfly island quest'isola che ricorda un po' il continente di mu ricorda un po' atlantide ricorda un po' tante cose che l'essere umano ha diciamo incapsulato all'interno di un luogo che potesse contenere ogni forma di saggezza e di salvezza per l'umanità volume completamente a colori dove si si cerca di scoprire quanto la mayfly island sia effettivamente un luogo vero un luogo dove forse l'umanità potrà salvarsi oppure no con questo stile tutto tremolante colori fatti con carboncino pastelli a cera acquerelli ci sono tante tecniche ed è veramente una figata poi fra l'altro come sempre vi ricordo che le sovraccopertine di toshokan se le rimuovete sotto hanno un disegno che può essere utilizzato per farci un quadretto se volete farlo bellissimo questo al prezzo di 12 euro e 90 prezzo più o meno in linea con tante altre pubblicazioni insomma questi tre sono i consigliatissimi della settimana recuperateli a a che